bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il realista Cancelletto1 farò la recensione di un film del 1976 i ragazzi della Roma violenta ispirato ad episodi realmente accaduti il film narra di un ragazzo dei parioli marco capo di un gruppo politico di destra che sopprime e sottomette con la violenza i suoi nemici spinge al suicidio una ragazza nei violenta e ne uccide altre il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione della sceneggiatura il film è di genere giallo la durata è un'ora e trenta minuti il regista è Renato Savino la regia è buona bravo regista l'attore Renzo Rinaldi bravo attore nel film anche Alicia Abruzzo Sara Ceccarini Paola Corazzi Cristina Businari Marco Zuanelli Gino Milli Gino Barzacchi Saluto Samu Brina Cita Kevin Il trio Medusa Michele Tregigliani FaiJ Picchiatore Guardate questo video Lasciate dei commenti Lasciate dei like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Arrivederci al prossimo video Spero che questo video vi sia piaciuto Grazie a tutti